Un lungo weekend all'insegna delle emozioni, da venerdì a domenica, qua sparto ospitato la Sacred Music Festival Federico Cesi, manifestazione organizzata dall'Associazione Fabbrica Armonica, un appuntamento che non ha deluso l'attese e che è stato contraddistinto da una risposta significativa da parte del pubblico. Domenica presso il chiostro di Palazzo Cesi si è tenuto l'atto conclusivo della rassegna in scena il coro e l'orchestra città di Firenze e il coro Cantoria Nova Romana, diretti da Concetta Anastasi. La performance è stata contraddistinta dall'esecuzione della Requiem K626 di Wolfgang Amadeus Mozart per soli coro e orchestra, presente tra gli altri il soprano Annalisa Pellegrini, una chiusura in grande stile, finale ideale per un'iniziativa che oltre concerti ha proposto agli appassionati anche escursioni naturalistiche e tour enogastronomici. Soddisfatti gli organizzatori pronti a riputare più che positivo il bilancio dal punto di vista musicale Fabbrica Armonica ha lavorato per far ascoltare agli spettatori musiche famose ma anche repertori inediti e particolari, selezionando addirittura brani di autori del 700 napoletano come Davide Perez e Nicola Porpora, fondamentale ai fini dell'organizzazione il sostegno della Fondazione Carit e della Cassa di Risparmio di Terni e Narni, grazie a cui è stato possibile garantire gli accessi gratuiti agli eventi in programma.